Si sta dietro i libri, si va al conservatorio a studiare, insomma sono anni e anni di sacrifici per arrivare, ma quando si è una dote naturale del genere, di cantare in questo modo, caspita, i migliori cantanti vadano dal tuo paese. Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuto. Lei viene da dove? Da Palermo, io ho conosciuto il papà, si si mi sto ricordando adesso, una cara persona, una cara persona, un bravissimo cantante, una persona che io ho avuto il piacere di conoscere e che mi ha insegnato molte cose per quel poco che ci siamo conosciuti. Adesso è il piacere di conoscere te che sei il figlio e sono veramente onorata che sei venuta tra l'altro stasera. Cosa ci fa ascoltare? Canto la conoscenza di mio padre, oh poverino, un grande successo di Mario Mello. Grazie per l'emozione che ci stai regalando. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie.